Nel giorno del quarto anniversario del sisma del centro Italia, il commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini in videoconferenza ha illustrato gli ultimi dati relativi alle pratiche lavorate dagli uffici, le tre nuove ordinanze in preparazione e il pacchetto sisma messo a punto per il recovery plan. La ricostruzione in questo anno è avanzata con un ritmo sostenuto nonostante le difficoltà legate alla pandemia e al cambio della normativa, ha detto Legnini, ricordando ai giornalisti che sono state approvate dagli uffici speciali, ben 1871 pratiche per la riparazione o la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, che sono arrivati a ottenere il contributo e dunque in condizione di far partire i lavori. Ed ancora nei soli quattro mesi tra fine giugno e il 26 ottobre, ha specificato Legnini, sono terminate le opere in oltre mille cantieri permettendo il rientro a casa di altrettante famiglie, mentre sono state presentate in tutto 2578 richieste di contributo, delle quali 1240 per danni lievi e 1338 per gli edifici con danni gravi. Le domande presentate al 26 di ottobre 2020 arrivano così a 14.641. Le abitazioni ricostruite in questi quattro anni sono, nel complesso, 3588, 1689 nelle Marche, 409 in Umbria, 295 nel Lazio e fanalino di coda all'Abruzzo con 151. Per quanto riguarda i nuovi provvedimenti allo studio c'è il super bonus rafforzato. L'ammontare delle risorse a favore della ricostruzione potrebbe aumentare, dice Legnini, con l'approvazione del pacchetto sisma del recovery plan nazionale e quindi le schede appena consegnate all'esecutivo prevedono 5 interventi, alcuni dei quali destinati a tutti i territori dove si sta ricostruendo dopo una catastrofe, altri specifici per il centro Italia colpito dai terremoti del 2009 e del 2016 che puntano a una ricostruzione sicura, sostenibile e connessa. Tra gli interventi viene individuato anche un super bonus edilizio, come detto, esteso nel tempo e rafforzato nei tetti di spesa, accessibile anche agli edifici produttivi, ma con il ripristino dell'obbligo del miglioramento sismico, oggi non richiesto, oltre che dell'efficienza energetica. Come detto, sono in arrivo tre nuove ordinanze del commissario straordinario che completeranno il quadro regolamentare della ricostruzione. Sarà disciplinato innanzitutto l'uso dei poteri in deroga concessi dalla legge al commissario per la realizzazione di opere prioritarie caratterizzate da particolari criticità o la ricostruzione dei centri storici più colpiti, poteri che potranno essere delegati ai soggetti attuatori degli interventi, tra i quali gli stessi comuni. Un'ordinanza specificato Legnini interverrà con ulteriori miglioramenti della normativa sulla ricostruzione privata con l'intento di risolvere alcune problematiche ancora aperte, dalla ripartizione del contributo nei condomini, agli interventi sugli edifici di interesse culturale, alla migliore definizione degli aggregati, alla messa in sicurezza degli edifici collabenti, alle tolleranze costruttive. Con una terza ordinanza, aggiunto il commissario, si procederà infine alla rimodulazione del programma di intervento sulle opere pubbliche con la definizione di un nuovo elenco unico. Si segnala in proposito che il governo ha garantito un nuovo stanziamento per la ricostruzione pubblica nella legge di bilancio 2021, ha detto ancora Legnini, e a breve ci sarà il testo unico che dovrebbe mettere ordine finalmente nella ricostruzione, agevolando l'accelerazione degli interventi.